Si è riunita di nuovo questa mattina all'indomani della sua Costituzione la Commissione Consigliare a Chieti nata per studiare il progetto che punta alla velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma e ridurre allo stesso tempo i disagi per il territorio. A presiedere la Commissione la cui nascita era stata annunciata lo scorso 31 gennaio nel corso del Consiglio Comunale Straordinario c'è Vincenzo Ginefra, il capogruppo della lista civica Chieti-Cè, mentre alla Vicepresidenza Roberto Miscia, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Il lavoro della Commissione si focalizzerà, come già annunciato più volte, su un'alternativa da trovare da contrapporre al progetto di RFI e cioè la delocalizzazione del doppio binario sulla ferrovia già esistente dell'interporto Val Pescara di Manopello. Dal canto suo Ginefra ribadisce la necessità per la Commissione di creare un collegamento tra le iniziative di RFI e le esigenze dei comuni in modo da non impattare sul territorio. Attraverso l'ascolto dei comitati e il dialogo con i comuni interessati si cercherà di trovare soluzioni che siano condivise da tutti nel dibattito pubblico che si terrà a metà marzo. Questa mattina intanto si è aggiunto un altro tassello programmatico, è stato stilato un cronoprogramma e sono stati esaminati i documenti in possesso della neonata Commissione, passaggio propedeutico al confronto che ci sarà con la Commissione urbanistica del Comune di Chieti per elaborare una proposta da portare in Consiglio Comunale quanto prima. Prossima convocazione per la Commissione sarà martedì 1 marzo, quando si riunirà di nuovo per valutare le tavole progettuali da discutere e le proposte migliorative da apportare nel rispetto delle esigenze dei territori. Grazie 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 a tutti.